Qualche idea, un po' di nozionismo, però le idee dovreste già averle, ricordandovi quel java che avevamo guardato l'altro giorno del campo elettrico, dove io se spostavo la carica, se la carica era ferma, il campo elettrico era di tipo colombiano poi se io improvvisamente muovevo la carica, punti distanti, venivano a sapere che la carica era mossa dopo un lascio di tempo l'informazione che la carica era stata spostata dalla posizione ipotizzata, arrivava dopo un lascio di tempo, c'era una propagazione dell'informazione viceversa, se la carica era già in moto, di moto rettilineo, punti distanti sapevano dove puntare man mano che la carica si muoveva se qualcuno fermava di colpo la carica, i punti distanti non sapevano che si era fermata e continuavano a puntare nella direzione dove avrebbero previsto che si trovasse poi l'informazione arriva che la carica in realtà si è formata e l'aggiornamento avviene con il ritardo allora questa è l'idea qua e spero che giochiate con quel java, guardatelo, non fate cose strane, moto circolare, vetri sega, giocate con il moto lineare e fermate di colpo, start, stop, cercate di sentire con la pancia quello che sta avvenendo non distraetevi dalle opzioni fighe del programma, non fate le cose complicate, fate cose semplici finchè non entra nella vostra testa, nella vostra pancia quello che sta avvenendo formalmente quello che voi vedete nel java si esprime qua, allora vi ho detto che c'è una certa rassomiglianza tra le equazioni dei potenziali in in statica e in dinamica in statica per esempio il potenziale elettrico, il potenziale scalare elettrico si scrive così ed è la soluzione, per costruzione l'abbiamo fatto, dell'equazione Laplace ci siamo convinti di questo, ricordate? Siamo partiti da una carica putiforme il potenziale elettro statico di un campo putiforme, di una carica putiforme poi di una distribuzione discreta e poi della distribuzione continua e imparavamo a far diventare la sommatoria un integrale questo è quello che sappiamo della statica abbiamo visto con dei passaggi non difficili e di cui siete responsabili l'elettromagnetismo si può scrivere in termini dei potenziali anche in termini generali, anche nell'elettrodinamica più bella che ci sia può essere espressa con i potenziali scalari e il potenziale elettrico in particolare per esempio il potenziale scalare, il potenziale elettrico nella dinamica soddisfa queste equazioni, invece di avere solo il Laplaciano avete il D'Alembertiano che è questa roba qua, questo operatore qui questo operatore qua si indica così no? è famoso D'Alembertiano e questa è la dinamica Certo che questa equazione che ha una certa assomiglianza con questa vedete che c'è il segno meno, c'è il Rho di risoluzione zero qua c'è l'Alembertiano e l'Alembertiano, d'accordo? Questa equazione a patto però che voi imponiate questa condizione ausiliaria, no? che è la famosa scelta di Loretz Parola tecnica è Gage Qual è la soluzione di questa? Allora, la morale è che la soluzione rassomiglia tantissimo a questa qua tantissimo, ma come ho scritto nel power point c'è un twist Un twist è il gergo che si mette quando uno va al bar e ordina un drink con un twist di solito è uno spulso di rumore che da un sapore un po' track c'è una soluzione allo stesso aspetto allo stesso aspetto però se la guardate con attenzione c'è quello che il java vi sta dimostrando che quel programmino java vi sta dimostrando Prima di scriverlo dovete essere chiari che siccome questa è statica qua non appare il tempo vi pare? non appare il tempo qua invece c'è il tempo per pacco è tutto dinamico quindi la soluzione del potenziale elettro statico sarà qual è il potenziale elettro statico in questo punto? in questo punto creato da delle cariche qua queste cariche creano un campo elettrico è una situazione dinamica quindi magari le cariche staranno anche muovendoci sarà un campo elettrico io sto scrivendo la parte elettrica per metodo il potenziale elettrico in questo punto beh dipende dall'istante sicuramente dipende dall'istante e la soluzione la scrivo così 1 su 4 pi greco l'integrale di volume su tutti i punti volumi della Rho calcolato nel punto R' qua prevo uno spazio qua eh prevo uno spazio perché ci sarà del tempo e prima lo scrivo qua poi diviso R-R' integrando su tutti i volumi ha lo stesso aspetto! la stessa formula! ma c'è una novità la novità è che il tempo che scrivo qui non è questo istante non è lo stesso istante è un altro istante e facciamo così e scrivo T asterisco è uguale a T meno cosa è questo? questo mi dice che in questo punto l'influenza della carica qua non è nell'istante T ma di un istante precedente se Dio spegne il sole noi vediamo a sapere tra 8 minuti che l'ha spento quindi quello che io vedo adesso è dovuto a qualcosa che è successo al sole 8 minuti fa quindi quello che io vedo qui nell'istante T nell'istante T è dovuto a quello che è successo qui non nell'istante T ma a un istante precedente a T che è il tempo che impiega l'informazione per andare da qua a qua pensateci ovviamente questa formula è una formula teorica ve la chiedo così nozionisticamente ma per dargli un po' di spessore non sia una forma che uno impara riguardate quel Java quello che avviene qua ora non dipende da quello che è successo qua nello stesso istante ma quello che è successo qua in un'istante precedente perché quello che succede qua impiega del tempo l'informazione a arrivare qua quindi quello che io vedo qui non è quello che è successo qua ora ma quello che è successo nel passato quanto tempo fa? il tempo indietro a cui devo arrivare per trovare l'origine dell'effetto ora è devo tornare indietro del tempo necessario che la luce impiega guarda da qua a qua questa distanza qua cosa è? questa distanza è r-r' perché chi è r-r' r-r' è questo vettore che va da qua dalla sorgente al punto che mi interessa e il modulo di quello è la distanza d'accordo? e siccome tutti sanno che la velocità è uguale a una distanza fratto un tempo è chiaro che il tempo di propagazione dell'informazione da qua a qua è uguale alla distanza fratto la velocità distanza fratto la velocità figo no? questo è come si scrive in matematica quello che vedete nel giallo d'accordo? questi potenziali qua sono chiamati potenziali ritardati non perché sono scimmie ma perché l'informazione arriva in ritardo potenziale ritardato in matematica carino no? però lo bello di questo è che è esattamente la stessa formula solo con le debite cambiamenti che qua c'è il tempo perché si parla dinamica e qua appare il tempo ma non è lo stesso istante sono diversi istanti perché è chiaro che questa specie di blob o di cetriolo o tubero di carica che si sta muovendo qua avete qualcosa che sta sta facendo cose strane e qua l'effetto qual è l'effetto in questo punto in un certo istante di quello che fa sta roba? beh quello che è qui è più vicino quindi invece un pezzo del blob che è qua dietro se lui fa qualcosa l'informazione che lui fa qualcosa arriva qua con un ritardo maggiore no? qua qualcosa fa un di rigori qua l'informazione che qualcosa è venuto qui arriva qui con un ritardo minore di numero di stadio quindi ognuno di questi dipende da dove dov'è la sorgente se la sorgente è vicina l'informazione vi arriva prima se la sorgente è lontana l'informazione vi arriva d'accordo? quindi questo non è un unico tau questo non è un unico tempo sono diversi tempi a seconda di dove si trova la sorgente quindi forse è il caso di magari scriverlo esplicitamente perchè qua uno pensi che sia uno invece infiliamolo a mano solo che non so se lo spancio mi ha fatto vivo piccolo quindi questo è T meno R meno R' diviso C ola così vedete che quel ritardo dipende da dove si trova la sorgente se la sorgente è lontana il ritardo è maggiore d'accordo? meglio così 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 correte meno il rischio quindi integrando sul volume avrete diversi tempi a seconda di dove si trova la sorgente si dimostra che questa è la soluzione d'accordo? carino questo vi ricordo dovete guardare il java e veramente imparare non giocare imparare da quel java una volta che avete imparato poi giocate come col piano forte no? prima si fa la suonare poi si gioca un po' di tempo a farlo fatelo anche voi questo disegno eh sono due situazioni fotogrammi col tempo che passa sto per cancellarlo quindi datemi da fare copiatelo almeno cercate di capirlo se non avete voglia di copiarlo cercate di capirlo sono due situazioni al passare del tempo qua non c'è nessun campo questo è un punto è un punto dello spazio visto da istanti diversi punto visto da istanti diversi in questo fotogramma qua non c'è alcun campo né elettrico né magnetico qua c'è un campo elettrico di là qua il campo elettrico è di là qua il campo elettrico è aumentato e il campo elettrico è aumentato perchè fanno la stessa cosa in proporzione tutto in direzioni diverse ma fanno la stessa cosa il campo elettrico sta calando pure quello b a zero poi il campo elettrico riappare ma punta verso il basso e il campo magnetico punto di là aumenta diminuisce la situazione analoga al passare del tempo ma guardate qua il campo elettrico è verso l'alto il campo magnetico è verso destra qua è verso sinistra qual è la direzione di propagazione di questi due problemi? prendete la mano destra quindi in questo qua E esce in questo sta uscendo in questo sta entrando l'onda in qua sta venendo verso voi l'onda in là sta entrando nella lavagna guardate il power point lezione onde elettromagnetiche maggio 2013 dovete andare nel sito cercare il capitolo onde ed è uno degli allegati i vari capitoli non è molto bello il sito lo so ma io ho altre cose da fare imparate a cercare nel sito se poi non riuscite a trovarlo venite da me e ve lo mostro ma vi guarderò con una faccia un po' così quindi brevemente visto che non ho molto tempo forse ci fanno due ore quanto va qua? vabbè dai facciamo questa è una carica positiva questa è una carica negativa immaginate che abbia assolutamente lo stesso valore ma di segno opposto è un dipolo elettrico queste due cariche d sono tra di loro a una distanza d qual è il momento del dipolo? il momento di fogo è se questa è la posizione r del vettore positivo e questo quello è il vettore posizione quello è il vettore posizione della carica negativa un ovo elettrico cos'è? per definizione è questo vettore qui ha le dimensioni di un coulomb per metro i momenti di fogo degli atomi probabilmente sono dell'ordine di 10 alla almeno 30 coulomb per metro perchè avete 1,6 per 10 alla meno 19 facciamo 1 per 10 alla meno 19 moltiplicato per la dimensione di un atomo la dimensione di un atomo è circa un angstrom, qualche angstrom 10 alla meno 10 metri quindi meno 19 10 per 10 alla meno 19 per 10 alla meno 10 viene fuori 10 alla meno 29 quindi il dipolo elettrico di un atomo si misura in 10 alla meno 29 come minimo forse è più piccolo 10 alla meno 30 che è di un atomo poi se avete un casino di atomi ovviamente com'è questo vettore? questo vettore questo qui chi è? è il vettore che va è la posizione della positiva rispetto alla negativa quindi questo vettore qui è il vettore che io sto frecciando leggermente quello là il modulo di questo è appunto la distanza ok? e la freccia visto che questo vettore va dal negativo al positivo questa freccia è una frecciona che va in questa direzione nella direzione del segmento negativo al positivo questo l'abbiamo già detto io voglio discutere il potenziale in un punto 4 ok? il potenziale elettostatico il problema elettostatico qual è il potenziale a questo punto? allora chiamiamo questo segmento qui siccome nel potenziale ci interessa la 1 sulla distanza il potenziale creato da un punto è inversamente proporzionale alla distanza ed è uno scalare io posso fare un po' di a meno di usare la notazione vettoriale e posso indicare questa distanza che sono? la indichiamo con con D l'ho indicato con la distanza come posso indicarlo? chiamo D maiuscolo questo questo lo chiamo la distanza dalla carica positiva questo è il punto P quanto D sta dalla carica positiva lo indichiamo con D più shh questa è la distanza che il punto D sta dalla carica negativa la vi indiciamo con la distanza di meno di pedice meno ok? qual è il potenziale elettostatico in questo punto? il potenziale elettostatico in questo punto è uguale alla costante elettrica quindi ho la carica positiva diviso la distanza ok? potrei fare così per il momento poi però questa carica è uguale a questa cambiata di segno quindi questo diventa stesso Q perchè è un dipolo è un dipolo questo Q e questo è un meno Q stesso Q solo di segno a posto adesso voglio fare un'approssimazione perchè è evidente che quando il punto è qui è chiaro che il punto è più distante dalla carica negativa è chiaro che questo segmento A è più lungo di questo segmento è evidente ma immaginate che questo punto P sia molto lontano quindi questo per esempio è la carica positiva la carica negativa quando il punto P è vicino non c'è dubbio che le distanze sono diverse certo se il punto è proprio sul piano di simmetria allora la distanza è uguale ma scelto un punto a caso è evidente che quando il punto è molto vicino in qualche modo in questa zona della lavagna le differenze di distanza è significativo ma se io prendo un punto che è un po' più distante la differenza della distanza comincia a diminuire certo che questo è più grande di quello ma la differenza sta cominciando a diminuire quindi io voglio fare l'approssimazione di un punto che è così distante così distante che la retta che va da questo al punto che è fuori dalla lavagna sia praticamente parallelo cioè non apprezzate che stanno convergendo sul punto è ovvio che convergono sul punto anche discorsi però se il punto è molto 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 distante ovviamente dovrei disegnarlo ovviamente dovrei disegnarlo però la lavagna e le mie capacità sono molto più grandi deve essere chiaro che queste convergono al punto è ovvio stanno puntando tutte e due il punto però il punto è così distante che queste due linee che puntano traguardano lo stesso punto sono quasi parallele quindi io voglio fare l'approssimazione che il punto sia molto distante quando si dice molto distante voi dovreste dire rispetto a cosa? quando qualcosa è molto grande, molto veloce dovete avere bisogno del termine di confronto no? siete degli ingegneri quindi molto grande rispetto a cosa? in questo caso molto grande rispetto alla distanza caratteristica del dipolo alla dimensione quindi è un punto che è molto 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 distante è un punto che ha una distanza quale distanza? beh visto che le due rette sono molto vicine ad essere parallele è inutile starla a litigare sulla distanza più o distanza meno questa distanza è molto maggiore della distanza della dimensione del dipolo ok? quindi se questo occhiamo è al D meno e questo è D più c'è una differenza delle lunghezze e qual'è? è questa tiro una retta perpendicolare a questa questa retta è parallela quasi a quest'altra quindi questo arriva qua e guardate questo triangolo questa è la differenza tra la distanza meno e la distanza più non solo esattamente la stessa distanza la distanza del punto dalla carica negativa è diversa di quanto è diversa? la stimo nell'ipotesi che questo e questo sono paralleli è chiaro che questa è diversa da questa se io volessi indicare graficamente qual'è la differenza della distanza L meno da L più cosa faccio? prendo per esempio un compasso lo apro alla distanza D più ancoro uno dei lati del compasso qui e faccio un arco di cerchio dove lui interseca qua questa è la differenza tra D meno e D più ma la differenza tra D meno e D più io in questa approssimazione nell'approssimazione che la distanza del punto o comunque voi la misurate sia molto grande rispetto alla distanza tra i due carichi del dipolo questa retta e questa retta sono circa parallele e quindi la distanza tra il punto del punto dalla carica negativa e rispetto alla distanza del punto dalla carica positiva io la posso stimare questa è una stima della differenza della distanza è una stima basata su quale ipotesi? che questa retta e questa retta siano parallele e questa per ipotesi va bene se il punto è molto distante e quindi se questo è parallelo a questo questo ha un angolo di 90 gradi questo qui è un triangolo rettangolo e quindi la distanza qua dipenderà da questo angolo non vi pare? o se volete dipende da questo angolo qua per esempio quando il punto è quassù qual è la distanza? se questo è il punto matematico la distanza della carica positiva è questa questa è la carica positiva non si vede più questa è la carica positiva e questa è la carica negativa questa è la distanza di più e questa è la distanza di meno qual è la differenza delle distanze? D maiuscolo ma la differenza di distanza cambia questa è la distanza di più e questo è l'angolo più utile allora qual è l'angolo? dove si trova? questo angolo e questo qui no? quindi questo angolo forse non è più utile e questo è l'angolo più utile tra l'altro nell'angolo che è caratteristica un po' di come funziona il dipolo no? vi ricordate? se il dipolo è questo e questo è il vettore t e lo infilo in un campo magnetico ho un campo letto misurato io misuro l'angolo dal dipolo si misura l'angolo dal dipolo quindi questo è l'angolo più naturale per descrivere la posizione della particella la posizione del punto matematico questo punto matematico sta all'angolo chiamiamo questo angolo che so teta sta all'angolo teta uguale a 0 questo punto qui sta all'angolo teta uguale pi greco a mezzi questo punto qua giù sta all'angolo teta uguale pi greco ma questo è un angolo polare quindi questo punto qua sta misurato dalla direzione del vettore P quindi di nuovo questo è il vettore P e misurate l'angolo dalla direzione di P quindi questo punto matematico qua a che angolo si trova? lo misurate così quindi a pi greco a mezzi questo così a questo angolo misurate sempre dalla direzione del vettore P chi si ricorda un po' di geometria avete usato nella vostra vita le coordinate polari? le coordinate polari le avete usate? chi non ha mai sentito parlare delle coordinate polari? le coordinate x,y,z di questo sono voi prendete questo punto la proiettate sul piano x,y quindi questa è la coordinate x questa è la coordinate y e questa distanza di cui avete proiettato il punto per arrivare al piano x,y è la coordinata z d'accordo? invece le coordinate polari fate una cosa già sempre partite dal punto che so la proiettate sul piano x,y pensate a questa retta qua e misurate questo angolo qui e misurate e poi dall'origine andate a questo punto con un'altra retta e misurate questo angolo qui questo è chiamato l'angolo azimutale questo è l'angolo zenitale dallo zenit quindi se lo zenit è di là l'angolo zenitale di questo è questo angolo qua misurate così un punto qua un punto qui un punto qui così qual è l'angolo azimutale di questo? allora se questo è l'asse x io devo fare qua cos'è? se è di qua devo fare quindi questo angolo qui che è indicato di solito con la lettera fi questo angolo con l'angolo theta 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 va da 0 a pi greco phi va da 0 a 2 pi greco io posso fare tutto il giro cioè questo è un punto un punto di qua dove si trova con questo angolo qua devo fare tutto devo immaginarli tirare la linea così devo fare tutto questo angolo qua invece dov'è in angolo zenit? devo 6.4 ok? che angolo azimutale a questo punto? devo fare tutto il giro l'angolo zenitale invece è questo angolo ok? chi non ha mai visto gli angoli polari? davvero? che scuola avete fatto? quindi l'angolo che appare qui chi è? voi dovete immaginare quando descrivete silenzio quando descrivete il potenziale elettostatico dipolo vi conviene fare una cosa del genere questo è il dipolo qua c'è la carica positiva e qua c'è la carica questo è il dipolo la descrizione più semplice è di piazzare l'origine proprio al centro del dipolo quindi voi avete questo è l'asse x se volete l'asse y e questo è l'asse z cioè piazzate il dipolo nell'asse z nella direzione della z positiva quindi il potenziale in un punto qua nell'ipotesi che questo punto sia molto distante adesso semplicemente cercando di di scegliere la convinzione più naturale questo sarà l'angolo teta d'accordo? quindi guardate qua questo può essere scritto così q 4 pi greco epsilon 0 di meno meno di più diviso di più finora non ho fatto ancora nessuna approssimazione semplicemente scritto ma adesso questo cos'è? questo è questa distanza qua quindi a d meno meno di più lo scrivo come cosa? questo è l'angolo più inutile questo è l'angolo zenitale questo è l'angolo più naturale per descrivere un dipolo l'angolo dalla direzione del dipolo quindi questo è l'angolo qua qual'è questo cateto? e d coseno di quell'angolo quindi d maiuscolo coseno dell'angolo coseno di teta va bene lo posso scrivere qua coseno di teta poi ho 1 su di più o di meno ok? va bene? allora se il punto è molto distante se il punto è molto distante si è vero che di più e di meno sono diversi infatti questa è la loro diversità però potete anche a un certo momento dire ok quanto è distante il punto dal centro del dipolo chiamiamo questa distanza qua la chiamiamo t la distanza del punto dal dipolo certo potrei dire ma da quale punto? se questo punto è molto distante ed è molto più grande d rispetto alla dimensione d del dipolo è inutile starla albificare tanto questa è una stima no? quindi la dico 1 sulla distanza al quadrato misurato dal centro del dipolo mettiamola così questa è una stima quello che ho fatto qua è già qua l'approssimazione qui sto facendo la stima stima che è del punto distante come potrei scrivere qua una pozza faccio questa è la stima che P basato su basato sull'ipotesi che P il punto che mi interessa sia molto distante e come metto in opera questa approssimazione? l'approssimazione la metto in opera immaginando che le due rette che vanno in realtà a convergere il punto siano quasi parallele quindi la stima della distanza la differenza delle distanze la scrivo come di maiuscolo coseno dell'angolo dell'angolo zenitale che va dalla direzione del dipolo al punto che mi interessa ok? e quindi questa è già una stima ma la distanza va al centro del dipolo se volete quindi abbiamo una formula carina eccola qua che per punti distanti per punti distanti il potenziale in un punto di un dipolo creato da un dipolo è uguale a al modulo del vettore di Bolo per il coseno dell'angolo polare diviso 4pi greco epsilon 0 a distanza del punto al quadrato ok? notate una cosa che questo non dipende dall'angolo azimutale questo dipende solo dall'angolo teta cioè il potenziale che ho appena scritto è una funzione di due variabili dipende dalla distanza del punto e dipende dall'angolo in cui si trova quindi la v dipende da due variabili non dipende da uno dipende dalla distanza che si trova e dipende dall'angolo e non dipende dall'angolo azimutale quindi c'è una simmetria assiale tutti i punti questo punto qua che si trova all'angolo teta disegniamo adesso tutti i punti che hanno la stessa distanza di I ma hanno anche lo stesso angolo teta ce ne sono in infinità eccole qua tutti questi punti hanno la stessa distanza di I e hanno lo stesso angolo teta immaginate un cono che prendete questo segmento e poi la fate ruotare attorno all'asse z tutti quei punti hanno esattamente lo stesso potenziale elettrostatico in quel senso non dipende da fi questa formula dipende solo da dove si trova a che distanza e a che angolo tutti questi punti hanno esattamente lo stesso angolo ok? punti alla stessa distanza distanza d con lo stesso angolo con lo stesso angolo zenit in inglese zine c'è la th in italiano no? si forse uno scrive zenit c'è la th ma zenitale non credo si scriverebbe con la h Allora che si fa per calcolare il campo elettrico? Come si fa a calcolare il campo elettrico? Si fa il? Coraggio, come si fa a calcolare il campo elettrico? Qualcuno l'ha in fondo che fa la faccia annoiata Lei, mi dica come si fa a calcolare il campo elettrico Come si fa? Lui sta girando disperatamente Come si fa a calcolare il campo elettrico? Risposta sbagliata Come si fa a calcolare il campo elettrico? Eh? Come si fa a calcolare il campo elettrico? Una risposta secca Corretta Come si fa a calcolare il campo elettrico? Si fa il? Gradiente Si cambia di segno Stiamo scrivendo da settimane questa roba qua Come si fa? Come fate a non capirlo? Io faccio la protesta adesso Come si fa a calcolare il gradiente? Allora in questo esercizio Questo è uno dei pochi casi Però lo voglio fare Sia perché è importante in voi sappianti il dipolo Sia perché dovete capire Che il gradiente che io vi ho dato Fino ora Che era questo operatore Nabla Lo potete usare se usate coordinate cartesiane del solito tipo X,Y,Z Ma in questo esercizio Dove la descrizione più naturale Sono le coordinate polari Non è quello il gradiente Questa è la cosa che dovete sapere Che il gradiente Così Vale quando le coordinate Sono queste E usate queste Allora il gradiente è questo E la maggior parte degli esercizi alla lavagna Saranno di questo O anche lo scritto Saranno di questo tipo Ma quando avete un potenziale Che non è di tipo X,Y,Z Ma è di tipo R,Phi,Teta,Phi Il gradiente non è quello Qual è il gradiente? In coordinate polari Ve lo scrivo In coordinate polari Anzi credo che la parola corrente Questa è in coordinate sferiche Questo è l'angolo polare Questa è in coordinate sferiche Questa è Lo chiamiamo Come lo chiamiamo Coordinate Cartesiane Rettangolari Va bene? Perchè Quindi Rettangolare Sferiche Questo sono coordinate sferiche Questo è l'angolo polare quindi avrò una U di R bisogna fare il disegno qua questo è il punto avrò non solo una U di X, U di Y, U di Z ma avrò una U di R e U di R è il più facile dei versori è un versore che punta radialmente avrò una U di R avrò una U di Th e avrò una U di Phi Allora, supponete che questo sia l'asse X facciamo così questo sia l'asse X, l'asse Y, l'asse Z verso di voi d'accordo? l'asse Z verso di voi questo è un punto U di R è questo U di Th, l'U dell'angolo z cos'è? se questo è l'asse Z dalla quale io misuro è un vettore che è così per esempio in questo punto chi è U di R? va dritto se il punto adesso lo sposto qua U di R va così ma U di Th dovete immaginare di fare così questo è U di Th sto misurando dall'asse Z cercherò magari sto pomeriggio a farvi un disegno decente U di Th vediamo se riesco a farlo adesso questo è U di R U di Th che sta... è come un uncino è come se... ricordate le guerre puniche ai romani quel ponte che avevano il corno ecco, quello è U di Th è l'uncino questo è l'uncino questo è l'uncino quindi qua avete U di R che sta andando così l'uncino e U di Phi chi è? U di Phi è il terzo dito questo è U di R l'indice l'indice non è il dito medio l'indice l'indice questo magari lo cancello l'indice questo è il dito medio e questo è il pollice quindi voi dovete andare al punto poi l'uncino è nella direzione dell'angolo polare e Phi è quello che... come si disegna qua? e per di là scelto il punto più infelice quello che sto cercando di disegnare essenzialmente è questa cosa qua dove questo è U di R questo è U di Th e U di Phi è così cioè io vado dritto poi seguo l'angolo Th perché sto andando qui immaginate che questo sia l'asse Z è più facile ok? io vado a un certo angolo a un certo punto con l'uncino vedete U di Th poi dove si trova l'angolo rispetto all'asse Z devo girarmi col pollice questo mi va... l'indice mi punta il punto l'uncino mi dice se questo è l'asse Z io devo puntare questo punto qua devo puntare d'accordo ma vedete l'uncino com'è? l'uncino verso il basso e a che angolo azimutale sono andato vedete il mio braccio? ho dovuto girarmi così quindi il pollice mi dice a che angolo azimutale devo girarmi l'uncino mi dice a che angolo polare devo scendere e il mio dito mi punta verso il punto e queste tre dita U di R uncino e pollice comunque formano una mano destra quindi in questo punto ovviamente con la scelta artistica che ho fatto è difficile disegnare ma cercherò di farlo un po' meglio e scrivere chi sono? eh? chi sono? ho giusto due minuti per scrivere questo è più facile è la derivata rispetto a R cos'è R? è la distanza dal punto dall'origine promettente no? sembra la stessa roba sembra la stessa roba qua cosa ho? ho la derivata rispetto a teta però non può bastare e dovete ragionare qua perché non può bastare? questa è una lunghezza queste sono lunghezze quindi il gradiente è un operatore che ha la dimensione di una lunghezza alla meno 1 giusto? quello che ho scritto qua non ha dimensioni non può essere una risposta completa manca qualcosa per dargli le dimensioni giuste devo dividere per una lunghezza e la risposta corretta devo darvi uno spazio qua è che questo è 1 diviso R vedete che c'è la dimensione di una lunghezza di una lunghezza e qual'è la componente della direzione agibut? è la derivata rispetto all'angolo agibutale ma non può essere una risposta completa perché manca la dimensione e qua è un po' più complicato per non darvi lo spazio per farlo è 1 su R seno di teta derivata rispetto a f ok? c'è il seno di teta non di f quindi spomeriggio appliceremo questo al nostro problema però il nostro problema il nostro problema questo dipende solo da R e da teta non dipende da phi quindi nell'esercizio che noi faremo questo non c'è nel nostro esercizio poi devo fare questo disegno in maniera chiara indice uncino e di quanto devo girarmi? asse x asse y a questo punto qua devo girarmi in che direzione? questo è l'angolo medio a questo punto come ci arrivo con l'angolo polare? se l'asso z è questa l'uncino deve andare così e quanto distante è? si